amici di homie radio buongiorno io sono fabrizio questo è wii motosport un contenitore di motori e oggi parliamo di moto gp parliamo di moto gp sicuramente il campionato è finito quindi ha vinto pecco bagnaia il secondo campionato di fila e non ci voleva questo secondo campionato per decretarlo un grande ma è stata una consacrazione per gli scettici perché moto italiana e pilota italiana ha zettito molti dando giusti meriti ma non è questo il campo ne approfondiremo più avanti oggi voglio parlarvi del caso cripto data caso cripto data di cui a capo c'è ovidio toma che è il ceo che sponsorizza sia la moto gp in certi tracciati come anche il gran premio d'austria tra l'altro è uno dei tanti problemi e soprattutto sponsorizza anche il team rnf di razlan razali che è dal 2019 in moto gp ma tutto questo bisogna mettere un po di ordine sicuramente bisogna far capire tutto un po da dove iniziato si inizia con razlan razali grandi appassionati di moto gp grande appassionato in generale del mondo moto decide di andare in malesia quanto lui è malese a chiedere una sponsorizzazione petronas per chiedere anche l'entry list alla dorna spagnola per entrare nel mondo del moto mondiale richiesta ricevuta quindi la dorna ha avuto le garanzie e subito si parte subito con due grandissimi piloti fabio quartararo e franco morbidelli la squadra è di tutto rispetto perché comunque ha ottenuto le garanzie da yamaha e garanzie da dorna di fianco a un grandissimo collaboratore come jannon stickfield e la squadra è di tutto rispetto perché dalla parte di fabio quartararo ha dei grandissimi tecnici dalla parte di franco morbidelli oltre ad avere tecnici yamaha ufficiali ha anche ramon forcada che ramon forcada è la storia del moto mondiale nonché tuttora nel team criptodata collaborando con la partecipazione in moto e appunto quest'anno ha raggiunto due vittorie con andrea mantovani che è un bravissimo pilota italiano orgogliosi di averla portata al mondiale con la moto e che diciamo che può essere un biglietto da visita per l'ingresso nel moto mondiale non avendo magari sponsorizzazioni soldi e soprattutto una la famosa valigia per garantirsi moto 2 o moto gp quindi dai è un è un ingresso nel mondo dei grandi pur essendo grande perché comunque corre nel civa corre anche nel corso nel national trophy ha fatto comunque esperienza è comunque per come l'ingresso in cui ha maturato questa esperienza subito si è presentato con due vittorie e quindi bravissimo e quindi stavo dicendo ramon forcada grandissimo conoscitore della moto mondiale che ha avuto esperienza con tutti i grandi ha collaborato con pons ha collaborato con puig ha collaborato con con lorenzo con casey stoner è quello che ha portato casey stoner in in moto gp con lorenzo ha vinto tre titoli in moto gp tutti in yamaha e quindi diciamo che è quello che ha fatto anche fare l'impresa a franco nel 2019 e anche nel 2020 sfiorando il titolo ma un passo alla volta quindi la stagione prosegue con i due prodigi franco dopo un anno in onda moto gp con il team di van desfros con una onda privata decide di prodare in petronas e quindi c'è franco morbidelli che dopo essere stato recuperato dalle sapienti mani di luca boscoscuro in moto 2 decide di fare il salto in moto gp e comunque franco morbidelli franco morbidelli e fabio quartararo non sfigurano più fabio che nel 2019 si trova a giocare molte gare e anche nel gruppo di testa anche soprattutto lottando per la vittoria anche con mark marquez poi perdendo anche duelli finali però comunque il talento c'era nel 2020 sicuramente ci sono dei primi scricchioli in questo team perché nel 2020 ci sono praticamente la yaman non non concorda la moto ufficiale morbidelli continuano con la 2019 però c'è l'avvento di valentino rossi che si prova a entrare c'è già un rumor che dice che l'anno prossimo dovrebbe entrare nel team morbidelli fa un bellissimo campionato e si merita la moto ufficiale nel 2020 rischia di vincere il titolo di campione del mondo e ancora una volta deve gli danno la 2020 e non la 2021 che sarà riservata valentino rossi ma intanto il team perde la sponsorizzazione petronas e quindi la grande sponsorizzazione malese che è uno dei tanti sponsor che è uscito come uscita movistar come uscita malboro come uscita camel come uscita petronas e speriamo che non esca reps in onda però speriamo e quindi esce petronas ed è un anno disastroso e da qui che va anche valentino diciamo che ha chiuso proprio la carriera abituato sempre a correre con moto ufficiali ha chiuso proprio la carriera nel peggiore dei modi con una yamaha peggio che privata perché in moto gp ci sono stati anche team satelliti o clienti però anche il team tectroa dirve poncharal si è sempre difeso con le sue possibilità con anche i grandi piloti come craccelo come smith come spargarò e quindi anche valentino ha chiuso la carriera un po' ammestamente 2022 entra in squadra andrea dovizioso andrea dovizioso mentre morbidelli finalmente passa in ufficiale ma non tiene i suoi risultati sperati andrea dovizioso fa un 2022 da incubo 2022 da incubo tanto sognata questa yamaha un poco merton senna come tanto ha sognato questa williams renault tanto ha sognato questa yamaha che aveva già guidato nel 2012 appunto nel team di arrivo poncharal team tectroa ma i risultati non sono quelli sperati e quindi mestamente anche lui chiude la carriera e poi la cosa che fa molto male è che anni dopo anche durante uno speciale di di amazon che invito tutti a vederlo amazon unlimited anzi moto gp unlimited razza razzali dice che praticamente lui era tiposo di valentino ma dopo un mancato autografo aveva proprio chiesto di che non vincesse più niente ed è gravissima una cosa del genere una tale affermazione ma comunque le anche le interviste dopo che valentino era vecchio e lui non voleva valentino e dovizioso era vecchio e lui non avrebbe voluto mai avere dovizioso in squadra questo determina anche tante riflessioni sul suo conto e poi la l'attualità che l'attualità poi ha fatto ancora un anno in yamaha disastroso portando binder dalla moto 3 alla moto gp avendo visto il percorso di miller che dalla moto 3 da vice campione del mondo su ktm è stato portato di forza in moto gp per fargli bruciare le tappe perché si si era intravisto un talento ma il passo è troppo ampio troppo e diciamo che si stava perdendo come anche mill anche binder dopo aver fatto un anno più per terra che in piedi è tornato indietro e diciamo che adesso non è più quel talento esplosivo che era prima e quindi sia lui che anche l'altro pilota hanno fatto fatica siccome poi si sono materializzate le opportunità perché questa yamaha è vero che non era competitiva ma anche nelle mani sapienti non è mal è anche mal gestita diciamo che non tutta la pioggia proprio batte sempre dove deve battere e quindi nuove sponsorizzazioni si passa ad aprilia si passa ad aprilia e praticamente le i piloti anche come quest'anno miguel oliveira e il giovanissimo fernandez sicuramente non hanno mai figurato perché il fernandez è un giovanissimo in crescita e nelle ultime gare come anche nei test che nei test soprattutto abbia figurato e miguel oliveira che è stato quasi sempre infortunato con un aprilia del 2022 quindi da proprio da team privato un anno precedente ma quello che è il caso è che non è stata rinnovata la licenza per potersi iscrivere al 2024 al campionato mondiale moto gp e tutto questo sono anche delle mancate sponsorizzazioni mancate spon mancati pagamenti delle sponsorizzazioni perché cripto data come detto prima era il title sponsor del team rnf che ha preso il 60 per cento del del consiglio di amministrazione quindi è 60 40 60 cripto 40 razzali ma soprattutto title sponsor anche del il gran premio di spielberg che si parla di settecento che si parla di molti soldi a riguardo ma ovidi utoma ha assicurato che tutto questo è infondato mai da due anni e anche da tre anni che si parla di irregolarità nella condotta sia di ovidi utoma che a riguardo a molto da chiarire anche sulla sua posizione lavorativa ma anche sulla sua posizione personale ma soprattutto sono anche i meccanici che non sono pagati da quasi un anno e comunque la dorna sapeva quindi in tutti gli sport c'è sempre qualche lacuna qua ci sono molte lacune nei massimi sport perché quando c'era il caso doping o calciopoli la fifa dov'era quando c'è stato questo e c'è questo tuttora la durna dov'è la durna sui sponsor sui tracciati su tutto ha sempre delle entrate e la durna non naviga in buone acque perché ha un rosso di pari a diversi milioni quindi il punto è che ci deve essere una una soluzione e questa soluzione qui si purtroppo si risolverà in tribunale perché credo data lui vuole prendere parte al 2024 dorna gli ha revocato la licenza per partecipare al 2024 e ci sarà un nuovo quindi ci sono due moto vacanti ma aprilia è tranquilla perché miguel oliveira ha il contratto con proprio aprilia e fernandez no però aprilia ha fatto partecipare fernandez al ai test facendolo anche ben figurare ma la finestra che si prepara è tra causa che tra causa non è altro che un team americano anche dove c'è il cantante pitbull dentro che praticamente fa correre le auto nelle nascar e tutto quanto quindi vedremo anche come si risolverà questa questa soluzione di sicuro omni radio e fabrizio di un moto sport vi terremo informati e su soprattutto su tutte le evoluzioni e anche l'evolversi della della causa se andranno in causa detto questo grazie a tutti e alla prossima ciao ciao